Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video e apriamo le LOL Monster! Sì! Le Monster LOL Glitterate! Eccole qua! Questa è la seconda pallina che mi è arrivata e ora l'apriremo insieme. Per questo magnifico, stupendo, fantastico evento, fantastico, stupendo, magnifico, avrei un paio di dubbi. Quindi, niente ragazzi, vedremo chi ci accompagna. Oggi c'è il, praticamente, ci sono tutti i mostri, no, manca faccia sfornata. Faccia sfornata manca perché è sopra e in alto sull'armadio, non ci arrivavo a prenderla e è rimasta là. Allora, intanto partiamo col presentare pasta è l'unico. Ciao! Ok. Poi c'è la nostra mitica Maria Antonietta. Ciao! Che vi ricordo era una Monster, è morta ed è risorta. Sì, che bello! Poi ci sono chiodi in testa. Ciao! Amore, quanto sei bellina! Oddio. Poi c'è la nostra storta! Ciao! Ma con quel ciuccio in bocca stai ancora? Sì! Con sta tutina che non so né di te né di me. È storta tutta la nostra storta. E poi c'è... Lentigine! Ciao! Eccole qui le tre dell'Ave Maria, quanto so belle! E ora andremo ad aprire un'altra vostra sorellina. Sì! Che bello! Allora, andiamo ad aprire. I rumori non se ne sentono. Strano. Andiamo ad aprire il primo strato, va? Di questa nuova glitter. Ah! Tra l'altro l'entigine è la prima glitter che abbiamo trovato. La prima Monster glitter. Che volendo vedere non è neanche malvagia. Infatti ce la volevo trasformare in It Baby. Ora vediamo. Sì, sì, It Baby è perfetta per lei. Appena ho due minuti di tempo e la trasformiamo. Allora. Apriamo il primo strato, va? Eccoci qua. La bomba con la conchiglia. Già visto e rivisto. Sto messaggino qua è stato visto e stravisto. E non c'entra mai niente. Per cui lo mettono tanto per. E questo si è capito. Andiamo con il nostro secondo strato. Che sono proprio curiosa. Di vedere chi troviamo oggi. Una nuova Monster. Sì! Il nostro adesivo, vabbè, si sono sbilanciati. Cioè, oddio. Prima ne erano quattro, adesso ne è uno solo. E vabbè. Va bene, sulle Monster, mi sta bene. Anche questa è la palla bianca, perlata, perlata per modo di dire, e dorata per modo di dire. Niente ragazzi, le glitter le fanno così. Metà perlate, le palle e metà oro. Ma di raro non c'è nulla, ovviamente. Questo strato qui. Con questo strato qui siamo riusciti ad ottenere il nostro, come si chiama questo? Il nostro biberon. Oddio. Sapete che i coloni non sono veritieri. Anzi, lo apriamo subito. Intanto continuano ad arrivare messaggi. Mamma ragazzi. Cioè, guardate che era più bello così. Era più bello così. Viola e... Aspetta. Guardate quanto era più bello così. Era più bello così. Questo viola psichedelico con il ciuccio rosa. E invece guardate che cos'è. Sto colore indefinito qua sopra, glitterato, per modo di dire, con questo azzurro che vabbè. Vabbè, sicuramente non è una doppia, ecco. Vediamo un po'. Questo strato, ah, ecco, sì. Qui abbiamo degli stivaletti. Sono sempre gli stessi stivaletti. Vediamo un po'. Come sono questi stivaletti. Ah, sempre quel colore lì, colore... Lego! Ma sempre quando faccio i video arrivi? Eh? Questo colore insulso che aveva anche la nostra... Non lo so. Qualcuno mi ha parlato di senape. Effettivamente è un colore senape. Vabbè, gli stivaletti sono uguali. Non dirmi che è la stessa bambolina. Non dirmi che abbiamo la gemella di It Baby. Di lentigine. Ah, ecco. L'entigine è anche It Baby di... Praticamente di... Di poveri, diciamo, ecco. Vabbè. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Oddio. Vediamo... Allora. Questo ormai c'è fisso. Praticamente questo cerchietto è fisso nelle Monster. Fisso. E dentro c'è... Ma il vestito? Tamara, sveglia. Oh, mio Dio. La fantasia è fatta persona, ragazzi. No, vabbè. Ma le Monster sono le Monster. Allora. No, la fantasia è fatta... Ma quanto è inguartabile il suo vestito. Cioè, di qua i glitter erano sotto, no? E di qua invece li hanno messi sopra. La fantasia è incredibile nelle Monster, la fantasia. Hanno una fantasia, ragazzi, che ti spiazzano proprio. Dici... Dici... Cioè... Eh... Eh... Non lo so. Cosa ti hanno fatto? Cioè, questo dovrebbe essere il colore... A questo punto, ragazzi, abbiamo trovato un Harley Quinn. Cioè, anche il viso è perfetto per fare Harley Quinn. È bianca cadaverica. Eh, amore, mi sa che diventerai Harley Quinn, lo sai? Allora, per adesso... Ma poi sto vestito che è insulso... In una maniera indecente è insulso sto vestito. Aspetta, proviamo a metterglielo. Mamma mia. No, dai, ragazzi. Dai, non mi dite... Non mi dite mica che... Che gli sta bene. Dai, su. Vediamo anche gli stivaletti che non ci accucchiano niente. Ancora una volta con tutto il resto. Non gli entrano neanche. Perché fanno fatica a entrare anche le scarpe. Niente, ragazzi. Lei è la sorella di Harley Quinn. Abbiamo... L'abbiamo... Gli abbiamo dato questo nome. La sorella di Harley Quinn che credo che questa qui la trasformeremo in Harley Quinn. Perché è praticamente perfetta per fare Harley Quinn. Che ne dite, ragazzi? Questa è perfetta per fare i baby, lentigine. E lei è perfetta per fare Harley Quinn. Certo, bisognerà togliere questi... Queste lentigini qua sotto sulle guance. Bisognerà rivedere un attimo i vestiti, i capelli, praticamente tutto. Però si può fare. Ditemi anche voi che cosa ne pensate, visto che ha questa carnagione così biancastra, è praticamente bianchissima in viso. Le tagliamo i due codini e la facciamo diventare Harley Quinn. Io direi che si può fare. Voi che dite? Ragazzi, anche questa glitter è stata aperta. Anche questa monster glitter è stata aperta. Ma io devo dire... Cosa posso dire io? Cosa vi posso dire? Ragazzi, ditemi voi. Cioè, le monster sono le monster. Questo è chiaro. Questo coso qua non gli sta neanche a morire. Non gli sta sto cerchietto. Ma va bene che non ti ci stia neanche a morire. Allora, io propongo, no? Poi mi dite voi se siete d'accordo oppure no. Questa la facciamo diventare It Baby dei poveretti. Cioè, nel senso, lei adesso è It Baby, è lentigine, però assomiglia talmente tanto a It Baby che è per adesso It Baby dei poveretti. Nel senso di casa nostra, insomma, no? E la faremo diventare It Baby Monster. It Baby Monster. Poi abbiamo Storta. Storta, io per adesso la lascerei così. Se qualcuno ha qualche consiglio per Storta, però, vabbè. Poi c'è questa, che è la sorella immaginaria, diciamo, la sorella immaginaria di Harley Quinn, che farei proprio diventare Harley Quinn a questo punto. Secondo me è perfetta questa per fare Harley Quinn. È perfetta. Il vestito, via. Prenderemo le scarpe. Sì, lei aveva mezzi stivaletti. Sì, gli stivaletti li facciamo andare bene. Ma io direi che sarà perfetta questa per farle Harley Quinn. Ditemi anche voi cosa ne pensate. E poi c'è la nostra... Come si chiama qua? La nostra chiodi in testa, che anche questa doveva essere trasformata in qualcuno. Non mi ricordo più. Forse è in Sailor Moon. Ma sì, è vero, è in Sailor Moon. Però, ragazzi, anche chiodi in testa mi fa... Vabbè. Si accettano consigli, ragazzi. Comunque, Eat Baby, Harley Quinn, e poi gli altri due, fate voi. Fate voi. Storta in qualcosa, e anche lei si può fare in tanti, in tanti modi. Perché basta tagliargli sta cosa qua, e si può trasformare in tanti modi. Anche lei, alla fine, si sistema un po' l'occhio. Non lo so. Vabbè. Allora, ragazzi, oggi abbiamo trovato la sorella di... La sorella di Harley Quinn, immaginaria. Io vi lascio con questo bellissimo quartetto. Sono belle le mostre. E alla prossima! Ciao! 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 Ciao!